Bonazzoli lanciato in avanti, cerca il colpo di testa Bonazzoli, il tocco sotto e l'Inter è subito avanti dopo un minuto e dieci con l'uomo più atteso Federico Bonazzoli va a sbloccare la partita è il migliore inizio per la formazione nera-azzurra con l'urlo del numero nove Federico Bonazzoli che ancora una volta